Ups, tutti, 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 i cari upsine, upsine, come, 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 come state? Spero bene, dai, io in realtà ho un po' mal di gola, però non importa, dai, oggi sono qui, solo per voi, per registrare questo nuovissimo video, appunto, dove farò il tracing di una parola e poi la ripeterò un po' di volte, saranno appunto parole riccherose, diciamo, dai, quindi indossa subito un paio di uve o auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di chiudere gli occhi, va bene? Io comincio subito, 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 ok? Le parole non me le sono segnate, quindi le inventerò un po' adesso Iniziamo con A, B, B, A, O A, B, 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 B Tavolo, 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 ok, poi, questa è un po' più lunga, sì, 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 O, D, L, I, L, L, O, proviamo! Quattro, 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 quattro B O L A scatola scatola devo stare attento alle respirazioni B A N A D 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 la candela, la candela, la candela, la candela ok poi una semplice dai a b o t t t t t t t Libro 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 Petro Petro G O M G H I G L G 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 Diciamo che per alcune parole mi guardo un po' intorno per trovare l'ispirazione G 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